salve a tutti benvenuti in questo nuovo video della pantera dello svapo oggi andremo a provare la polacca del professore dello svapo eccoci qua ragazzi con il nuovo liquido presentato in fiera dal professore dello svapo che è la polacca aversana la polacca versana è nata nel 1926 tramite una suora polacca che donò la ricetta un noto pasticciere che ne fece comunque una ricetta sua e così è nata la polacca versana tipico dolce di aversa e il professore dello svapo mi ha fatto un liquido infatti la polacca versana adesso lo andiamo a provare e poi vi dirò la mia dall'odore è proprio una una la polacca lo andremo a provare sull'i tank di vaporesso l'andremo a provare sull'i tank di vaporesso allora ragazzi il liquido la ricorda perfettamente si sente comunque la crema pasticcera con questo tocco di amarena che non va a contrastare comunque non è eccessiva la marena e si sente questa sfoglia sul finale è un liquido molto buono che io lo consiglio comunque ed è questo qua il professore dello svapo la polacca aversana shot da c'è la ciabi da 60 all'interno troverete comunque lo scomposto da 20 che dovete completare con vg e poi con la nicotina o senza quindi ragazzi che dire faccio i complimenti al professore dello svapo e io vi saluto con la svavata ciao a tutti